Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con l'interrogazione avanzata nel Consiglio Comunale di ieri dal consigliere del Partito Democratico Paolo Ticozzi. Sostanzialmente si tratterebbe di un progetto che ipotizza la realizzazione di un parco nelle ex serre del cimitero di Mestre, a risarcimento alla cittadinanza per la perdita del parco Ponci distrutto nel 1949. I mestrini più anziani ricordano bene la vicenda dello scempio che fu fatto del magnifico parco con tanto di laghetto che si trovava proprio nel cuore di Mestre, esattamente dove oggi si trova un grigio parcheggio, spiega il consigliere del PD che aggiunge. Inoltre l'area in cui insistevano le serre è al momento senza destinazioni urbanistiche, per cui trasformarla in un'area verde sarebbe la soluzione ottimale. Attualmente il Comune di Venezia possiede un ingente avanzo libero di bilancio. Usiamolo per interventi pubblici utili non solo alla città ma anche all'ambiente. Sono sicuro che poi per un'operazione simile non sarebbe difficile riuscire a trovare ulteriori linee di finanziamento da regione, governo o addirittura dall'Europa. Penso che gran parte della città poggerà la proposta e si unirà alla nostra richiesta all'amministrazione per procedere in questa direzione. Spostiamoci ora a Venezia dove il Comune ha reso noto che è stato destinato un finanziamento di 1,6 milioni di euro alla manutenzione e recupero degli alloggi Ater. 600 mila euro serviranno al riatto degli alloggi sfitti e il restante milione alle operazioni di manutenzione. A intervenire è stata la consulta civica veneziana, associazione inquilini della Giudecca e Sacca Fisola, che martedì si è riunita per un confronto sulle problematiche degli alloggi pubblici, con la partecipazione dei consiglieri regionali Jonathan Montanariello del Partito Democratico e Alenon Stanel del Veneto che vogliamo. Sta per nascere un tavolo permanente sulla casa nella città di Venezia, annuncia la consulta, che vedrà un costante aggiornamento numerico sul patrimonio abitato e non di proprietà di Ater e del Comune di Venezia gestito da Insula. Un periodico incontro con gli enti locali e le associazioni che si occupano della casa e un piano di recupero degli appartamenti sfitti da rimettere a bando per successive assegnazioni. Purtroppo è da tempo che notiamo la poca attenzione alle manutenzioni degli alloggi. Lo stanziamento dimostra che senza le segnalazioni degli inquilini e delle associazioni forse non sarebbe mai arrivato. E sempre in questi giorni la giunta comunale di Marghera si prepara a mandare in consiglio la delibera sull'acquisizione comunale del capannone del petrolchimico a Marghera da Eni. Ma ai sindacati le promesse di restauro e di restituzione alla città del bene non sembrano bastare. Le tre sigle della chimica veneziana FICTEM, FEMCA e WILTEC sono intervenute martedì in settima commissione congiunta all'ottava e hanno chiesto tutte con alcuni distinguo un impegno scritto a permettere la continuazione di assemblee, riunioni e attività sindacali organizzate fino a oggi all'interno del fabbricato. Non occorre avere fretta di portare la delibera in consiglio, affermano Ugo Agiollo, segretario della Camera del Lavoro CGL metropolitana, e Davide Camuccio, segretario di FICTEM CGL. Concediamoci qualche settimana per discutere sull'uso del capannone prima che venga approvato l'acquisto da parte di Eni. Agiollo e Camuccio hanno appena fatto recapitare dai legali una diffida a Eni Rewind e al sindaco Luigi Brugnaro per aver dato notizia dell'acquisto a decisioni già prese. Cambiamo l'argomento per parlare dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo il tratto a tre corsie dell'A4 fra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. Due mezzi, un autocarro e un furgone si sono scontrati lateralmente verso mezzogiorno e una persona è rimasta ferita ma in condizioni non gravi. Da ieri sera sono stati tre gli incidenti verificatisi in questo tratto di autostrada. Un tratto delicato purtroppo caratterizzato anche da molti mortali e che ha visto negli ultimi anni anche un sostanziale aumento del traffico dei mezzi pesanti in continuo transito tra i paesi dell'Est e l'Italia. Restano invece ancora molto gravi le condizioni della bambina di 5 mesi che sabato scorso è stata ricoverata all'ospedale di Chioggia a causa di un'emorragia cerebrale. Lo scorso lunedì la piccola, vista la delicatezza della situazione clinica, è stata trasferita in elio soccorso nel reparto di pediatria di Padova dove si trova tuttora sotto controllo medico. Stando ai primi accertamenti, l'emorragia cerebrale potrebbe essere stata provocata da un trauma cranico la cui causa però è ancora in fase di verifica. La bimba era stata portata al pronto soccorso dalla madre già in gravi condizioni ma sul corpo della piccola non era stata riscontrata alcuna lesione. In questi casi l'origine del trauma cranico viene ricercata in possibili incidenti domestici, maltrattamenti o in quello che viene comunemente chiamato scuotimento. Tra le ipotesi al vaglio c'è proprio quest'ultima. Lo scuotimento, tipico dei primi mesi di vita, si verifica soprattutto quando i bambini piangono insistentemente. Il genitore per calmare il bambino lo scuote e questo può provocare gravi danni a livello cerebrale. Visto che gli organi e la muscolatura non sono ancora formati. Al momento però non c'è alcuna conferma che si tratti di questo preciso fenomeno. Serviranno infatti ulteriori verifiche per cercare di comprendere cosa sia accaduto alla bimba che con ogni probabilità dovrà essere operata nelle prossime ore per rimuovere il coagulo di sangue. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti.